PS Redamenti è un'azienda leader nel settore degli yacht e mega yacht, è nata nel 1990 e quest'anno ha festeggiato i suoi 32 anni anche con l'uscita di un libro Ingegno e Coraggio. Il segreto del successo di DS Redamenti è la passione, l'impegno, il coraggio che ha sempre messo nel cercare di migliorarsi, investire con il contributo e l'impegno degli oltre 100 dipendenti che mi piacerebbe più dire collaboratori, amici, partecipi in quello che è l'attività di tutti i giorni in azienda nel cercare di soddisfare i nostri maggiori clienti. La storia che mi ha avvicinato alla pallacanestra è un po' particolare, avevo dei compagni di classe che a quel tempo giocavano lì nella scuola della scuola e i dirigenti del mini basket avevano detto chiunque di voi riesca a portare un ragazzo nuovo in società gli verrà regalato un pallone e sostanzialmente è quello che è successo. Uno dei miei amici ha portato me e da quel giorno io non ho mai smesso. La scelta di continuare il percorso di studi è stata dettata dal fatto che trovo sia fondamentale riuscire a spezzare quella che è la routine quotidiana che noi giocatori normalmente siamo soliti fare, quindi gli allenamenti, i riposi e soprattutto perché credo sia una valida alternativa per quello che può essere il percorso post carriera. La scelta di sostenere la pallacanestra 2.015 innanzitutto è per una motivazione qui nel territorio nel cercare di collaborare e investire in quello che è uno sport che sicuramente coinvolge tanti giovani, coinvolge tante persone legate qui al nostro territorio. Mi sembra comunque una cosa molto positiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!